Il patto di fedeltà che il candidato sindaco Anna Maria Casini ha fatto firmare i suoi candidati consiglieri è inutile perché la città è già stata tradita con i fatti. Non usa mezzi termini il candidato sindaco di Forza Italia, Elisabetta Bianchi, per criticare l'iniziativa della Casini. Sarebbe stato bello e più utile alla cittadinanza, rincara, vederli sottoscrivere il no alla centrale metanodotto SNAM, il no alla chiusura del ponto nascita, il no alla chiusura e delocalizzazione del tribunale, il no al declassamento della città ad aria intermedia che allontana Sulmona dei trasporti, dagli istituti superiori e dalla sanità. Su questi temi, su cui la Bianchi si è sempre battuta, resta il silenzio delle forze politiche che sostengono la coalizione del candidato sindaco Casini. Una mega coalizione ibrida, conclude la Bianchi, che escludere a programma questi argomenti nevralgici per Sulmona e per l'intera Valle Peligna. Intanto domani 2 giugno alle ore 17.30 nella frazione Cavate la Bianchi incontrerà i residenti delle frazioni. Grazie a tutti.